teo siamo venuti a trovare gli anziani e ti tocca fare ti tocca fare il guadinatore felice questo è un carpone e un barbo grosso vediamo che riesci a prenderli vai piano eh siamo nelle tue mani eh siamo nelle tue mani non vedi che non ci non dà eh beh adesso a te arriva arrivi dalla Siberia c'ha c'ha il colbacco col colbacco io ho visto che erano mangiati sta pescando col pasturatore vediamo apparire probabilmente questo mostro dalle acque potrebbe scivolare sì questo è un bel barbo secondo me no tino guarda che felice sta pescando il delfino tino vediamo la maestria nell'avvolgere il mulinello nel volgere e svolgere perché adesso ho imparato con l'antiritorno non perde più un pesce dopo tre anni che lo conosco mi ha detto io ho cominciato io ho fatto il mondo dopo tre anni notare lo sguardo che scruta l'orizzonte che scruta l'acqua è già apparso il pasturatore ed è la pezza sotto è che quasi stanchina piano piano felice e impegnatissimo veramente bella la del carpotto eh si eccola lì alza la canna sennò va dentro dei ciasci bravo felix pianino eh ah 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 dai 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 eh ah 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 guarda che carpanone che la ciapa felice guarda quello dell'elastico guarda Teo mi strappano i pesci, dico mettici l'elastico e l'antiritorno e guarda che carpa che la ciappa, il Felice. Grande Felix, adesso la prendi e facciamo anche una bella foto e poi la liberiamo. Stiamo senza arpione, bravo togliti col bacco. Ecco, prendila bene senza senza, bravo, così come una bambina, accarezzala, è una bella carpa, prendi la mano sotto, delicato, bella, bravo così, guarda che roba, guarda che carpetta del serio, la faccia della carpa, la faccia di Felice, trovo le differenze, mi sa che sono felici tutti e due, si metti la lì che poi la liberiamo, no, no, la metti nella nasa, bravo, vai, dentro allo scivolare.